Leo, guarda chi c'è, guarda chi c'è, saluta, di ciao a tutti, guarda dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, poi cosa c'è dopo l'uno? Uno, zero, ciao amore, saluta, di ciao a tutti, il cagnolino, il cagnolino, ah il cagnolino non è su questo, è su Instagram quello, guarda te lo faccio, il cagnolino, ok te lo faccio su questo, aspetta tienigliolo lì, guarda qua il cagnolino, gli piace il filtro del cagnolino, guarda. Che bello questo filtro del cagnolino, vabbè adesso si sono persi nel filtro del cagnolino ragazzi, io non so come si gira la telecamera ragazzi, vabbè, possiamo salutare no? Sì, salutiamo, ciao, sto cadendo, ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, vuoi salutare Lello? Ciao a tutti, niente, l'ho scappato. Ciao a tutti.